il re fa abbassar l'uscio della sua camera a ciò che bertoldo convenga inchinarsi nell'entrar dentro la mattina partissi dunque bertoldo e il re fece abbassar l'uscio della sua camera tanto che chi voleva entrare in essa bisognava per forza che si inchinasse con il capo e ciò fece al fine che bertoldo alla tornata che faceva si dovesse inchinare nell'entrare e così venisse a fargli riverenza al suo dispetto e così stava aspettando il giorno per vedere il successo della cosa la mattina l'astuto bertoldo tornò alla corte come era suo solito e veduto l'uscio abbassato in quella maniera pensò subito alla malizia e conobbe che il re aveva fatto questo solamente perché esso nell'entrare a lui se l'inchinasse onde in cambio di chinare il capo e abbassarlo nell'entrare dentro voltò la schiena ed entrò all'indietro a tal che in cambio di far riverenza al re gli rivolse il podice e l'onorò con le natiche allora il re conobbe che costui era astuto soprattutto gli altri astuti ed ebbe cara a simile piacevolezza e pur mostrando d'essere alquanto alterato gli disse chi t'ha insegnato villan ribaldo d'entrarne le case a questa foggia il gambaro ma perché il gambaro tu hai avuto un buon pedante certo ah tu devi sapere che il mio padre aveva fino a dieci figlioli ed era povero come ancora sono io e perché spesse volte non vi era pane da cena egli in scambio di cibarci e mandarci pasciuti a letto ci soleva contare qualche favola a buon conto per farci addormentare e così la sollevamo passare fino a mattina onde fra l'altre che io gli udì raccontare questa mi restò nella mente e se tu hai pazienza di darmi un poco di udienza udirai cosa che non ti dispiacerà e torna appunto al proposito nostro o di porsù che ciò mi sarà di sommo piacere diceva il mio padre che quando le bestie parlavano e che le civette cacavano mantelli che il gambaro e la granzella amici carissimi si disposero ad andare un poco per il mondo a vedere come si viveva negli altri paesi il gambaro allora camminava all'innanzi come fa l'altro bestiame e similmente la granzella non andava per traverso come fanno al presente ora costoro partironsi dalle paterne case andarono molto tempo girando il mondo e furono nel regno delle cavallette e poi passarono su quello delle lucerte che confina con quello del re dei parpaglioni e così circondarono gran parte della terra e videro vari riti e vari costumi fra quelle bestiole alla fine capitarono nel paese dei schiratoli ed era sera e perché fra gli schiratoli e le donno le era grandissima guerra per essere confinanti insieme e per una nuova sospizione di tradimento si stava in armi dall'una e dall'altra parte arrivati questi due compagni insieme in luogo furono dalle guardie scoperti e tolti per due spioni e subito presi e legati furono condotti innanzi al loro capitano il quale fattogli esaminare minutamente non trovò in essi altro se non che desiderosi di veder del mondo erano giunti in quelle parti e che come forastieri non erano informati di cosa alcuna e che bramavano di essere posti in libertà e tornarsene alle patrie loro oppure se volevano trattenerli per soldati gli dessero il soldo come agli altri che essi gli averiano serviti in quella guerra fidelissimamente e inteso ciò dal capitano subito gli fece slegare e parendogli essere bestie da fazione per avere tanti piedi e tante braccia gli accettò e subito gli fece passare la panca ora avvenne che essendo mandato il gambaro a spiare quello che si faceva nel campo dei nemici come quello che era nuovo personaggio in quel paese e che camminava con grandissimo silenzio e spesso si copriva tutto sotto la coda non sarebbe conosciuto così facilmente esso andò animosamente nel campo nemico e trovando le guardie che dormivano passò avanti e andò fino al padiglione del donno lotto pensando chi vi ancora si dormisse ma il meschino ebbe malafortuna perché ivi si stava svegliato e giocavano a massa e topa onde nel porre che i fece il capo dentro subito fu visto da uno di quei soldati il quale cheto cheto si levò da giocare che il povero gambero neanche se ne avvide e preso uno stanghetto gli tirò così fatto colpo sul capo che lo stordì di maniera che il parea morto e se egli non si fosse trovato indosso le sue solite arme il cervello gli andava a spasso e colui che lo percosse non sapendo che i fosse una spia ma credendosi che qui vi fosse capitato a caso non avendo mostaccio a proposito da spia e credendolo morto lo prise per le corna e lo gettò in un fosso e senza altro sospetto ritornò a giocare ora ritornato il misero in se stesso e non potendo appena levare il capo per la gran percossa ricevuta giuro di mai più non voler entrare con il capo innanti in luogo alcuno ma di camminare sempre con la coda a ciò se più gli veniva dato delle busse che piuttosto gli fosse dato sulla schiera che non sulla testa e così tornato al campo fece la relazione di quanto gli era intravenuto e come le guardie dormivano ma che nel padiglione si vegliava e onde il capitano fece armare chietamente le sue schiere andò ad assaltare il nemico e prese il padiglione e uccise tutti quelli che vi erano dentro e fecero le vendette del bastonato gambaro il quale per non giunger più assieme il passo disse alla granzella andiamoci con dio perché la guerra non fa per noi ma come fuggiremo disse la granzella che non siano vedute le nostre pedate beh tu camminerai per traverso disse il gambaro e io all'indietro e così ci torremo di sotto piacque la proposta alla granzella e subito si levò in punta di piedi e gentilmente cominciò a camminare di gallone e con tanta destrezza che il gambero appena poteva tenerli dietro e così si partirono dal campo e mai non poterono coloro sapere dove fossero andati per lo stravagante camminare che facevano e così giunsero alle case loro e per i pericoli nei quali erano stati lasciarono per testamento che tutti i descendenti loro dovessero per l'avvenire camminare sempre come avevano fatto essi nel tornare alle loro case e finora si vede che il gambaro cammina all'indietro e la granzella cammina per fianco e perché il gambaro ebbe quella bacchettata sul capo nel cacciarsi nel padiglione io me lo son sempre tenuto a mente e per questo nel cacciarmi nella tua camera sono entrato alla roversa perché meglio è che il sedere sia percosso piuttosto che il capo or che ne dici non è forse bella questa favola o sì certo e sei stato un grande uomo or su vattene a casa e torna domani da me e fa che io ti vegga e non ti vegga e portami l'orto la stalla e financo il molino indovinala tu grillo or su io vado e mi ingegnerò di fare quel ch'io saprò grazie a tutti